Quello che è sul palco in questo momento non è un campione di calcio, non è un campione di soft air, né di baseball che tanto ha affascinato Lorenzo Valeriani la settimana scorsa, però è nel Guinness dei primati. Noi ve lo facciamo osservare mentre è in azione, sembra un lavoretto da niente Lorenzo quando lo fa lui, quello che compie qui su questa piccola attrezzatura, in realtà ha colpito e sorpreso tantissime persone. Patrizio Scirolli sei pronto? Sali pure sul tuo cavallo meccanico con la musica che ti accompagnerà e vedrete cosa riesce a fare in poco tempo, perché questo è una piccola finestra Lorenzo, non abbiamo tantissimo tempo. Patrizio regge tutto qui, nel senso perfetto. Lui è un record band nel tempo, cioè lui riesce a fare ore e ore, poi ve lo raccontiamo ancora meglio. Non appena la musica partirà lui ci darà un esempio di come si balza in sella, poi voglio vedere gli appassionati delle ciclette a casa come replicheranno, perché anche in palestra si dice, si dice poi. e alziamo un po' caso mai. Un uomo Grazie a tutti 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 La nostra Grazie a tutti 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 No, sono Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti